Nome? Carlo Alberto, Roberto, anni? 37, 36. Parlatevi di Biker Alto Adige. Biker Alto Adige è un'associazione di Bolzano che organizza manifestazioni sulla sicurezza stradale, per il trovo di tanti motociclisti come le moto benedizioni e anche mototerapia. Moto posseduta? Io Ducati 848 Street Fighter. Io ho una Traxxon 900. Moto desiderata? Un garage pieno di tutte le moto di ogni genere. Anche per me è la stessa cosa. Qual è il posto del cuore? Le nostre montagne in Alto Adige sono secondo me i posti più belli dove girare con la moto. Devo dire che anche io sono di parte, i passi alpini. Il viaggio più bello che hai fatto? Non ho viaggiato molto, onestamente, con la moto. Preferisco proprio gite brevi sulle nostre montagne. Il mio viaggio, vabbè, venire in Romagna magari con mia moglie, godermi la moto con calma e in strade nuove. Un viaggio che vorresti fare? Girare l'Italia con la moto, sì. Io mi spingerei verso nord, anche capo nord per assurdo. Un aggettivo per descrivere OJ? Affidabile. Io assolutamente comodo a misura di motociclista. Salutato OJ. Ciao! Ciao, ci vediamo a Bolzano. Ciao, ciao!